È una giornata importante perché ribadisce che l'approccio delle Breast Unit con un team multidisciplinare rappresenta la risposta migliore al tumore della mammella. In Italia sono centri diffusi e assicurano le migliori cure possibili alle tante donne che purtroppo hanno questo problema e quindi sempre di più bisogna andare in questa direzione, investendo ovviamente anche in ricerca. È stata presente la Commissaria Europea Chiria Chidis che ha ribadito la qualità delle Breast Unit nel nostro Paese e quanto questo approccio debba essere condiviso anche in tutte le altre nazioni europee.